Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ancora funzionante Per fare questo glitch bisogna avere i seguenti requisiti ragazzi Un amico, una sessione privata, una sultan e il vostro amico dovrà avere anche lui il centro operativo ragazzi E nel centro operativo del vostro amico il terzo slot ovvero dove noi abbiamo il deposito veicolo Lui dovrà avere slot vuoto ragazzi A questo punto cosa dobbiamo fare? Entriamo nel nostro centro operativo e saliamo nell'auto premendo il tasto option e tenendolo premuto E non appena il giocatore poggia la mano destra sullo sterzo rilasciamo option premendo R2 ragazzi In maniera tale da creare una situazione di bug Come vedete anche a me non riesce molto facilmente ragazzi perché questo è un po' un glitch di merda Però funziona e ve l'ho voluto ripostare Lascerò in descrizione anche il video originale in maniera tale che voi possiate vederlo Quindi option R2 rilasciate option ragazzi Il link del video lo metterò come commento in primo piano così almeno lo vedete meglio Quindi ripartiamo Triangolo mentre teniamo premuto option lo dobbiamo tenere premuto Quando poggia la mano sullo sterzo rilasciamo option e premiamo R2 ovviamente ragazzi Dovremmo avere una situazione di questo genere dovremmo spawnare così Se il glitch non vi riesce in una sessione cambiate sessione perché vi garantisco che riesce Allora dovrete avere questa situazione qui nel centro operativo mobile Due auto doppiate una sull'altra A questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare Dobbiamo andare nel nostro garage Ma prima vi faccio vedere ragazzi che il mio amico nel suo centro operativo ha un'auto identica alla mia o meglio alla mia auto Il nostro amico ci servirà per darci una mano ragazzi L'unica cosa che dovrà fare il nostro amico è andare addosso alla portiera dell'auto e premere il triangolo Adesso andiamo a vedere come e cosa dovrà fare Quando noi glielo diremo ovviamente Dovrà fare questo lavoro qui ragazzi Non dovrà fare altro Ma solamente quando glielo diremo noi Non è che deve stare sempre lì a A spammare triangolo insomma Quindi a questo punto quando abbiamo Diciamo controllato tutto Andiamo a vedere Bella facciata c'è sta sempre Dobbiamo avere due garage ragazzi Tutte e due pieni Non importa se di faggio o di elegi Però comunque che siano pieni ragazzi Quindi andremo a prendere una faggio O una elegi Quello che volete Io in questo caso vado a prendere una faggio E la andiamo a mettere nel centro operativo mobile ragazzi Di conseguenza l'auto che si trova nel centro operativo mobile Passerà direttamente nel nostro garage E nel centro operativo mobile rimarrà Diciamo l'auto quella lì bloccata Il clone rimarrà nel centro operativo mobile Ma il glitch non finisce qui ragazzi Quindi andiamo a fare il passaggio Di mettere il Vespino nel centro operativo mobile Lo mettiamo ovviamente ci dirà che è pieno Accetteremo il messaggio E l'auto andrà nel garage Come vedete Adesso vi faccio vedere ragazzi Nella sultana che abbiamo qui davanti C'è un Vespino dentro la sultana ragazzi Quindi ora usciremo dal centro operativo mobile E andremo a fare questo passaggio ragazzi Entriamo su internet E andiamo sulla pagina del Warstock Per comprare il modulo di armeria E ovviamente officina Per poter fare questo glitch Questo glitch ci permetterà di duplicare Moltissime auto alla volta Nel senso non tutte insieme Però ne potremo duplicare parecchi Quindi che cosa andremo a fare Andremo a posizionarci su Terzo slot ragazzi E andremo per comprarlo Intanto prima di comprarlo Diremo al nostro amico di premere triangolo Molto prima ovviamente Lui dovrà spammare triangolo Mentre che noi stiamo comprando E fino a che saremo saliti Nel centro operativo mobile Badate bene Se lascerà il triangolo L'auto sparirà Quindi fate bene attenzione Quindi entriamo nel nostro centro operativo mobile Dove abbiamo appena comprato l'armeria E ci troveremo l'auto Dentro al centro operativo mobile E la sultan è dentro al centro operativo mobile Adesso il nostro amico può tranquillamente Lasciare il triangolo Mentre noi dobbiamo premere il triangolo Per teletrasportarci dentro l'auto O può anche continuare a premere triangolo Però l'importante è che il nostro amico Non salga nell'auto ragazzi Perché se salirà nell'auto L'auto sarà fottuta Una volta che noi saremo saliti nell'auto Con il teletrasporto Non salite normalmente Perché altrimenti vi sparirà sotto al culo Cambiamo la targa E torniamo in garage Con il Vespino Che ho precedentemente chiamato Avete visto che ho preso un Vespino E torniamo Nel nostro garage In questo caso ragazzi Non dobbiamo tornare nel garage Di provenienza del Vespino Ma nel garage opposto Nell'altro garage pieno Che noi abbiamo Quindi io qui ce l'ho Strapieno di sultan Perché stavo provando E riprovando il glitch Però comunque sia Dobbiamo andare in un garage pieno L'auto che sarà in questo garage Si sposterà nel garage Dove stava il Vespino Sembra complesso Ma non è affatto complesso Ragazzi Quindi noi abbiamo messo la sultana Al primo posto Lo so Sono tutte sultana Ragazzi Vi confondete l'idea No? E la sultana che stava di qua E è andata a finire Nell'altro garage Adesso vi faccio vedere Quindi torniamo in garage Ragazzi E andiamo a vedere La sultana dove Dove è andata a finire Come vedete La sultana è venuta A finire dentro Questo garage Allora ragazzi Questa è una parte del video Il video completo Ve lo lascio linkato Un saluto a tutti Al prossimo video Faccio un filetto Dimmi con l'ultima cosa Con sincerità Questo è un gioco E mi diverto La verità Lo dico per tutti i ragazzini Di qualsiasi età Siamo in CTA È diverso dalla realtà Con il dito sul grilletto Un nemico non scapperà Questo mondo di nemici È il mondo di CTA Con il dito sul grilletto Con il dito